qual è il look perfetto per far colpo per far colpo su un uomo il look perfetto è quello che fa trappelare fascino fa trappelare la personalità attraverso l'esterno vita comuni che interiore una diciamo una tua sicurezza interiore e una tua sensualità interiore e quello che ti aiuta emanare libido senza a parere volgare e il primo punto fondamentale quello che lo stile il tuo stile che deve essere uno stile personalizzato in modo tale che le persone possano riconoscerti dallo stile e quindi per creare uno stile molto importante ad esempio valorizzare degli accessori qualche accessorio particolare ad esempio un tipo di orecchini particolare piuttosto che una collana un bracciale qualcosa di particolare con uno stile che ti piace ma che sia fortemente riconoscibile insomma con un valore anche simbolico e quindi il tuo stile deve essere comunque adeguato all'età non tanto l'età anagrafica ma tanto quanto all'età manifesta all'età dimostrata perché ci sono molte donne che utilizzano dei tipi di abbigliamento non conformi e quindi vogliono apparire diciamo usare un abbigliamento che usano le ventenni quando magari ne hanno 40 e ne dimostrano 50 o viceversa insomma adesso era soltanto per fare una battuta ma in questi casi si perde completamente fascino si perde completamente fascino e si scade un po nel ridicolo ma è vero anche il contrario quando una ragazza giovane una ventenne vuol utilizzare un abbigliamento da una donna di 40 perde la sua freschezza non diventa né carne né pesce perché non acquisirà il fascino della quarantenne perderà la freschezza della ventenne quindi è molto importante questo avere uno stile personalizzato ma entro un ambito dell'età diciamo dimostrata non tanto l'età anagrafica e poi è importante diciamo utilizzare un tipo di abbigliamento che in qualche modo vada a mascherare tra virgolette difetti tra virgolette difetti fisici legati soprattutto magari al sovrappeso oppure a particolari conformazioni vada invece valorizzare comunque i punti di forza ma la cosa importante è che come nella comunicazione tu provi a variare a variare magari mantenendo fissa alcune cose facendo alcune variazioni per calibrarti poi sulla risposta che ti danno gli uomini e diventa un gioco divertente perché proprio a fare delle variazioni e vedi quali variazioni diciamo su quali variazioni ottieni un maggior numero di consenti sia verbali ma soprattutto anche non verbali fatti di sguardi fatti di ammicamenti fatti di queste cose e questo è il modo migliore per imparare sul campo diciamo in modo tale da ottimizzare piano piano e crearti il tuo look personale vincente quello che potrà fare colpo ti do appuntamento al prossimo video ciao